Il Domino Strap Training è un attrezzo molto versatile che permette di far lavorare tutta la muscolatura del corpo tramite l'allenamento funzionale. Con questo attrezzo abbiamo la possibilità di allenarci in sospensione, utilizzando cioè il peso del corpo o parte di esso come carico. Lavoriamo per sviluppare la forza, la flessibilità, la resistenza, l'equilibrio e la stabilità. In quasi tutti gli esercizi che vi propongo con il Domino Strap Training viene allenata alla costability, vale a dire la capacità di stabilizzare il bacino da parte della muscolatura pelvica. Inoltre fruttiamo anche tutta la libertà di movimento delle articolazioni. Un ennesimo vantaggio è quello che si ha la possibilità di fare esercizi altamente correlati col gesto tech, sfruttando così tutte le catene muscolari che sono implicate nella corsa, nel tennis o nelle attività sportive in genere. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!